scopri nel nostro nuovo video cosa può accadere alle ragazze buone e cosa a quelle cattive tutte le sedie sono occupate che devo fare ho sete non mi dispiacerebbe qualcosa di freddo ora c'è un posto vuoto non ne ho bisogno grande asciugamano gratis le ragazze cattive pensano solo a se stesse ehi carol questa è la mia sdraio sono stata via solamente 5 minuti era tua ora è mia ciao ciao ma non è giusto perché ogni ragazza deve sudarselo il posto al sole beh è il momento di chiedere il conto sì che insalata deliziosa cameriera adoro questo ristorante cucinano così bene ecco il conto grazie quant'è vediamo 10 20 30 e una mancia naturalmente ecco la tua parte le brave ragazze danno sempre una generosa mancia quanto una mosca presa buh che schifo le cattive ragazze invece farebbero di tutto per non pagare mettila via è disgustoso ehi cameriera prendi qualcos'altro no mi ha passato l'appetito c'è una mosca nella mia insalata non la pagherò oh no mi dispiace tanto tenterò di rimediare il mio piano ha funzionato carol non puoi farlo ma sì ho anche risparmiati soldi sei qui iniziamo il colloquio ok mettiti comoda queste sono le nostre richieste per la tua posizione le vostre esigenze vediamo prima le mie le cattive ragazze sanno che i loro difetti possono diventare pregi wow sei la nostra candidata perfetta congratulazioni te l'avevo detto siamo stati proprio fortunati buon pomeriggio un'altra secchiona un minuto no no io ho un colloquio proprio qui sono la persona migliore per questa posizione beh va bene vediamo non male è brava le brave ragazze fanno sempre del loro meglio per ottenere quello che vogliono ok sei assunta grazie sarò la migliore dipendente si ok non toccare il mio portatile non lo farò a presto ah fa male vattene è finita ma io ti amo prendi i tuoi stracci casanova una relazione con una ragazza cattiva può essere molto difficile ok ho capito grazie tesoro a domani ti odio è così intelligente così gentile conosce tutto meglio di chiunque altro ne ho abbastanza caro che stai facendo dove vai è ora di lasciarci cosa no perché ecco la chiave buona fortuna e il rapporto con una brava ragazza può essere assolutamente insopportabile le cattive ragazze e quelle buone sono molto diverse a proposito della carità possiamo iniziare colleghi ciao fate una buona azione ciao Giulia queste scarpe sono bellissime tu sei così dolce sono certa che le tue cose faranno felice qualcuno grazie non ti vergognare Jess grazie mille dammi il 5 venite qui Leo hai portato dei vestiti grazie questa è un'ottima azione colleghi siete migliori dobbiamo ancora donare un po' mmm che bella gonna Carol cosa stai facendo prendo anche queste scarpe ma quelle le diamo ai senza tetto smettila bla 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 che ragazzaccia ma anche le cattive ragazze hanno sentimenti che ragazzo carino ehi ciao 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 ah Carol sono divertenti non ti avvicinare Vicky aspetta mi dispiace tanto oh è così fantastico oh ciao Phil se una brava ragazza si innamora è una cosa seria che devo fare forse dovrei chiedergli di uscire con me lo so gli scriverò un biglietto d'amore fatto oh ti prego fa che funzioni chiedi a Rose dovrebbe saperlo quella rossa? ok Rose hai un minuto? ma certo puoi aiutarmi con questi dati? con piacere guarda con questi grafici otterrai tutto ecco a te grazie c'è un biglietto qui ah interessante Rose ti chiamerò ti aspetto la cattiva ragazza non aspetta che una buona occasione per prendere il comando ciao vuoi offrirmi da bere? a una ragazza così bella con piacere sei carina hai un nome Carol piacere di conoscerti Carol scusate ecco il mio drink sei bello sì lo sono ehi Bill te ne puoi andare ti piace ballare? lo adoro saluto salute a noi sei già stato qui? avrei dovuto notarti oh ecco la mia nuova preda nessuno resiste al mio fascino ciao caro è così bello che tu sia qui ma io? vieni con me non te ne pentirai più opzioni ci sono e meglio è oh andiamo va bene me lo mangio tutto mmm delizioso a volte le cattive ragazze possono essere molto gentili coi familiari Vicky vuoi una mela? beh grazie grazie che altro? un pezzo di torta? in fondo i legami di sangue sono importanti serviti pure sorella grazie che generosità per te è sufficiente salvate il pianeta smettete di abbattere gli alberi unitevi alla nostra causa salvate la terra con noi sì salviamo il pianeta salviamo il pianeta insieme cosa sono queste urla? oh quei fanatici ognuno ha il proprio atteggiamento verso madre natura oh no salviamo il pianeta è ora di prendere una tazza di caffè Jacob c'è qualcosa che non va nel diagramma la percentuale qui non è giusta no è giusta non ci sono abbastanza dati in uscita ok ma questa è solo una parte del rapporto ecco la mia tazza di caffè è divino Jacob sei un barista nato aspetta chi ha detto? ehi quello è il mio caffè ciao Rose ti dispiace se prendo il tuo caffè? prendilo pure grazie sei così carina ok me ne faccio un altro Rose il capo mi ucciderà non faccio in tempo grazie caffè non c'è di che ok terza volta no non ancora ok va bene prendilo a volte può essere complicato essere una brava ragazza non è giusto Rose la tua pausa caffè sta diventando troppo lunga ho bisogno del rapporto entro 20 minuti ma oh Phil ha dimenticato le cuffie oh no ops ora hai un problema dirò a nostro fratello che gli hai rotto le cuffie non farlo per favore allora portami un croissant e una tazza di caffè è veloce devi andare sbrigati ecco fatto sorella adesso sono libera non così in fretta ecco qua vuoi che faccia tutto questo? sei seria? preferisco confessarlo a Phil Phil devo dirti una cosa ti ha rotto le cuffie perdonami fratello sono solo delle cuffie lascia perdere davvero? grazie o quella Vicky a volte anche una ragazza cattiva può fare la cosa giusta sta a noi decidere da che parte stare buono o cattivo e tu cosa scegli? ti è piaciuto il video? se ti è piaciuto iscriviti al nostro canale e fai clic sul campanello a presto a presto